benvenuti appassionati del crimine in delitto breve oggi vi parlerò di gypsy rose blanchard buon ascolto inauguriamo questo nuovo format con la raccapricciante vicenda di gypsy rose blanchard nata il 27 di luglio 1991 a golden needle in louisiana dopo la separazione dal padre di gypsy sua madre didi si è sempre presa cura di sua figlia a tempo pieno poiché la bambina soffriva di diversi disturbi era affetta da leucemia distrofia muscolare aveva un ritardo cognitivo e doveva essere sempre alimentata tramite un sondino le due si erano trasferite in una piccola casetta springfield in missouri e i vicini di casa si erano molto affezionati a loro didi era descritta come una donna affabile sempre allegra e vivace ma soprattutto molto generosa era anche una signora eccentrica vestiva con abiti sempre molto colorati e sgargianti e raccoglieva spesso i suoi capelli scuri e ricci con code alte mamma didi all'età di 48 anni continuava ad occuparsi di sua figlia gypsy che continuava ad avere sempre gli stessi problemi cronici che sembravano peggiorare di giorno in giorno i suoi problemi agli occhi la costringevano ad indossare grandi e spessi occhiali da vista e per l'asma grave usava costantemente una canula nasale collegata ad una bombola d'ossigeno la ragazza era pallida molto magra e passava la vita sulla sua sedia a rotelle madre e figlia vivevano grazie a donazioni e soprattutto grazie alla fondazione make a wish beneficiavano di voli gratuiti e viaggi che le portavano in luoghi come disney world e sembravano almeno da chi le vedeva dall'esterno affiatate e unite nonostante le difficoltà tutto questo continua fino al 14 di giugno del 2015 quando sulla pagina facebook di didi compare un post quella stronza è morta tutti i conoscenti sono allarmati e chiamano il 911 si precipitano a casa di gypsy e sua madre dove trovano la polizia che in possesso del mandato di perquisizione entra in casa e alle 10 e 45 trova il corpo di didi in camera da letto tutti pensano che gypsy sia stata rapita mentre le indagini sono in corso gli investigatori scoprono che la piccola gypsy rose avesse un fidanzato con la quale aveva iniziato a chattare diversi mesi prima all'insaputa di sua madre e il suo nome era nicolas god jones il 15 di giugno gli agenti bussano alla porta di nicolas e lì illesa trovano gypsy rose tutti erano sinceramente sollevati da quella notizia fin quando lo sceriffo di springfield in una conferenza stampa la mattina seguente ha detto a tutti la verità la giovane ragazza aveva lasciato casa di sua madre senza la sedia rotelle che usava fin da bambina non aveva bisogno del sondino e nemmeno della bombola dell'ossigeno non prendeva più gli innumerevoli farmaci che didi le dava costantemente perché non ne aveva alcun bisogno era stata tutta una truffa un imbroglio in piena regola un piano ideato e messo in atto per anni da didi blanchard gypsy era sempre stata una bambina senza alcun problema di salute e finalmente aveva rivelato la sua storia di abusi didi è stato dunque ipotizzato che soffrisse della sindrome di menschhausen per procura un disturbo mentale per il quale un genitore o un tutore arreca volontariamente un danno in questo caso un minore per attirare l'attenzione su di sé addirittura prima delle frequenti visite mediche didi iniettava alla figlia un anestetico che le intorpidiva la bocca in modo da non farla parlare bene e farla sembrare ancora più malata e le rasava giornalmente la testa gypsy ha poi confessato alla polizia di aver chiesto al suo fidanzato nicolas di uccidere sua madre per lei e lui ha consentito portando a termine il piano il 12 di giugno del 2015 quella sera mentre sua madre già dormiva gypsy ha aperto la porta nicolas l'ha fatto entrare e gli ha lasciato un coltello e dei guanti che il ragazzo utilizzato per colpire ripetutamente didi che nel frattempo gridava il nome di sua figlia rimasta rannicchiata in bagno con le mani sulle orecchie per sentire il meno possibile la polizia successivamente scoperto che il padre di gypsy rod non avesse affatto abbandonato la figlia anzi le mandava mensilmente del denaro e anche regali che didi faceva credere a gypsy che le avesse comprato lei per tenerla più lontano possibile dal suo papà il 14 luglio del 2016 il processo era già avviato e gypsy è stata condannata a scontare dieci anni ma in effetti è stato nicolas ad eseguire materialmente quel crimine e su di lui vengono eseguite le perizie psichiatriche che stabiliscono che il ragazzo fosse autistico nel novembre del 2018 si apre anche il processo di nicolas e a febbraio del 2019 viene condannato all'ergastolo per omicidio di primo grado una vicenda in cui tristemente si intrecciano tre vite quella di gypsy rose blanchard di sua madre didi e di nicolas che si intrecciano tre vite